Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dell'estrazione del Superanalotto. Chi possede oggi, sabato 22 febbraio, la ricevuta della giocata del Superanalotto può vincere 2.747.912 euro. Sono già iniziate l'operazione relativa al concorso numero 23. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate, con l'autorizzazione della commissione di controllo di Amoralvia all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urno elettronico e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 38. E in arrivo il secondo numero. Il secondo numero estratto è il numero 28. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 34. E in arrivo il quarto numero che ci porta verso i premi importanti. Quarto numero estratto è il numero 19. Quinto e penultimo numero. Quinto numero estratto è il numero 82. Il sesto numero si conclude la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 17. Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 40. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione. Il numero jolly 38, 28, 34, 19, 82, 17. Il numero jolly è il numero 40. Ora passiamo al numero super stare, il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della conveide della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfere dall'1 al 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero super stare premia anche lo 0, l'1 e il 2. Moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quelle del 4 e del 3. Il numero super stare di questa sera è il numero 62. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 23 del super analotto con la sestina vincente in ordine crescente. 17, 19, 28, 34, 38, 82, il numero jole è il numero 40, il numero super stare è il numero 62. E l'estrazione di oggi sabato 22 febbraio trammina qui. Fra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 2 milioni di euro è stato assegnato a uno più vincitori. E noi vi aspettiamo sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 23 che vi ricorda messo in palio il jackpot di oltre 2 milioni di euro. E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi. Infatti abbiamo 80.896 vincite. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che... Non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 5 e vincono 58.555 euro ciascuno. I 4 sono 941 e vincono 314 euro ciascuno. I 3 sono 34.472 e vincono 17 euro ciascuno. Passiamo ora a sopestare il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 ma premia anche con 0,1 e 2 punti. Vediamo nei dettagli tutte le quote. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 8 e vincono 31.415 euro ciascuno. I 3 stella sono 146 e vincono 1.706 euro ciascuno. 100 euro vanno i 2.238 due stella. 10 euro e 13.736 uno stella. E 5 euro e 29.350 zero stella. E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso. 3.300.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e il Suprano Lotto vi dà appuntamento a martedì 25 febbraio sempre qui su Sizzle TV, la rete in diretta con la fortuna. Grazie. Grazie a tutti.